La schirotto credo abbia recuperato al 100% comunque un riferimento per la difesa. Ora attacca l'Inter, attenzione la palla per Lautaro che fa sfilare molto bene il pallone. Il tiro! Il gol! Il gol del capitano dell'Inter! E il numero 100 in Serie A! Lautaro Martinez, Internazionale 1! Lecce 0 al quindicesimo, bellissimo il movimento di Lautaro che marcato stretto riesce con il corpo a far sfilare la palla in posizione centrale e poi allungandosi con una leggera punta batte in uscita Falcone. Vediamo ancora, lo rivediamo con Aslani che d'esterno serve Lautaro che in caduta di destro con la punta del piede indirizza il pallone in porta e quindi Aslani risponde alla chiamata di Simone. Ho il dubbio, ho il dubbio, stanno controllando se fuori il gioco o no. Hai il dubbio? E finalmente se la gare del Lecce alza... Lo tiene in gioco il difensore destro del Lecce. Dalla larga, dall'inquadratura larga... Il dubbio c'era in fuori gioco, ma il destro, il difensore destro lo tiene in gioco. Comunque gran gol. Gran gol, in caduta, Ahmed Tubà l'abbiamo appena nominato, però non è che solo Tubà. Tutti i difensori centrali con Lautaro soffrono. Il gol, vediamo, ancora non è confermato, ma credo di sì a questo punto. Sì, 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 confermato Inter che passa in vantaggio con... Facciamo tutti i numeri di Lautaro, perché il centesimo in Serie A, il centoventiseiesimo con la maglia dell'Inter insegue Niers, il ventiquattresimo stagionale, ventuno in campionato con Vlaovic, abbiamo detto, a quindici. Quindi, grandi record del capitano che ieri ha insistito tanto. Voglio giocare, voglio giocare e subito risponde presente, Inter in vantaggio. Attenzione ora a Lecce, però, una palla che si alza a campanile nell'area dell'Inter. La tocca a Carlos Augusto, palla che va fuori, vediamo se c'era fallo, calcio d'angolo. Credo che sia cornerone, eh? Corner per il Lecce, sì, sì, calcio d'angolo. Ma Michele, cos'è che avevi detto? 1-0 Lautaro col controllo del VAR? Certo. Ragazzi, tutto vero! L'oracolo, anche nelle scalate, dobbiamo anche considerare che Bissek, De Vrij e Carlos Augusto è una difesa molto, diciamo, nuova, nel senso che non è che giocano sempre insieme. Anche se singolarmente hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa. Quindi magari qualche meccanismo. E poi c'è un Lecce, che comunque non è per niente scoraggiato dal gol di Lautaro, che sta pressando veramente tanto, ci sta provando in tanti modi, soprattutto Piccoli, che sta correndo tantissimo. Ora Inter che prova a partire, come sempre, dal basso, con Bissek che è attaccato. Ecco, la fisicità di Dumfries può dare una mano alla difesa dell'Inter, soprattutto su Piccoli. Lui e Bissek stanno, diciamo, un po' chiudendo di più sull'attaccante di D'Aversa. Ecco, bisogna essere bravi, secondo me, a non adagiarsi su questo 1-0. No, hai ragione. Ma non sembra che lo stia facendo. No, però psicologicamente, diciamo, continuare a avere quella grinta, quella garra. Sì, dopo il gol, comunque, la partita... Ma anche perché il Lecce comunque... Non rinuncia, no, no. Esatto, non rinuncia, quindi non puoi permettertelo. Già il Lecce non è una squadra che si difende e basta. Poi adesso, a maggior ragione, non se lo può permettere, ora Bissek che entra ancora molto bene nello spazio. Uh, se l'allunga troppo, peccato, è Baschirotto a buon gioco, ad anticiparlo. La palla era molto buona da quella parte, l'Inter sfonda molto con Dufi, Sprattesi. Ora c'è un intervento di Carlos Augusto. Sia cartocciano Carlos Augusto? Su un giocatore del Lecce che rimane a terra, è Olmquist, è Olmquist, è Olmquist, che rimane a terra e va a sbattere contro il tabellone pubblicitario. Non credo ci fosse intenzione, insomma, di fargli male. Adesso lo sto rivedendo, lo spinge proprio. Eh, beh, la spinta c'è. La spinta c'è. No, dico, non penso avesse potuto pensare che poi andava a sbattere in modo violento sul cartellone pubblicitario. Fortunatamente si è rialzato e sta bene Olmquist. Qui, diciamo, la spallata forte, il fallo c'è di Carlos Augusto. Vediamo adesso l'arbitro cosa ha deciso. Intanto ci fanno rivedere l'inserimento prima di Frattesi, che veramente è uno specialista... Ma la palla di ginocchio da Tari Sanchez. Bellissimo. Bella, tecnicamente, fatto bene a sottolinearlo, perché ripeto, anche da parte dei tifosi dell'Inter, secondo me, viene un po' troppo maltrattato Alexis Sanchez, che è un giocatore che fa pochi secondi a partita. Sono giocate che faceva anche il Tuku Correa, ma ha trattato uguale. No, no, assolutamente no. Sanchez ha messo lo zampino, per esempio, l'Inter che ora con la partenza dal basso rischia qualcosa. Con Frattesi, che viene anticipato, ma poi il difensore del Lecce non riesce a servire il compagno. Quindi Inter che riparte, ma Lautaro un po' stranamente in questo controllo molle. Quindi break del Lecce, attenzione, il tiro. Palla, anzi, che rimane in mezzo giocabile per Piccoli. La difesa dell'Inter si salva, sembrava quasi un tentativo di tiro di Raffià, poi alla fine la palla invece è finita a Piccoli, che però non è riuscita a girarsi. E allora Inter velocissime in contropiede con Mkhitaryan, che lancia troppo lungo per Sanchez. Palla per Falcone, mezz'ora di gioco, sempre 1-0 per l'Inter. Però se già prima il Lecce è una squadra propositiva, quindi la partita era aperta. Dopo il gol ancora di più e quindi vediamo capovolgimenti di fronte e azioni da una parte e dall'altra. Lecce che non rinuncia assolutamente ad attaccare, ma Inter che poi negli spazi, diceva bene prima Emanuele, se ci fosse stato Turam in questi spazi, sono proprio le sue partite, ha maggior ragione per Madrid. L'Inter spera e confida di recuperarlo. La partita è apertissima, finisce in questo momento, Doveri fischi alla fine del primo tempo, un primo tempo anche piacevole, magari per gli spettatori neutrali, per noi interisti e leccesi si soffre un po'. L'Inter la sta vincendo con deciso un campione, Lautaro Martinez, ma anche bellissima la giocata di Aslani, che l'ha servito. Poi forse più vicina l'Inter del Lecce a segnare, ma occasioni o potenziali occasioni in tutte e due le aree di rigore, con Piccoli che sta cercando a sportellate di liberarsi per fare inserire sia Olmquist, sia Sansone, anche Rafià che abbiamo visto in questa posizione tra le linee. Partita quindi apertissima. Sì, partita molto aperta, appunto Inter vicina perlomeno ha tentato di siglare il 2-0 negli ultimi minuti di recupero di questo primo tempo, non ci è riuscita e quindi voglio scoprire gli up and down firmati Michele Borrelli. Allora, partiamo dagli up, soprattutto per il gol, che però non è per niente un gol banale, anche bello Lautaro Martinez, quindi con un bel 7, così come anche Aslani, lo tengo sul 7. per l'assist, poi è vero che magari in alcune occasioni non è semplicissimo, perché la squadra ha dei meccanismi nuovi, l'abbiamo detto tante volte durante il primo tempo, però Aslani se l'è cavata e dà continuità alla prestazione di Firenze, anche se siamo solo a metà partita. E poi, lo sto vedendo adesso, intervistato a Dazon, ero indeciso tra Frattesi e Sanchez, premio Frattesi perché veramente sta a correre un moto perpetuo e su questo non viene mai meno e quindi da sostanza è entrato in area di rigore tante volte, magari a volte può gestire un po' di più il pallone, però è un pericolo costante per qualsiasi difesa e quindi lo premio con un 6,5, un po' sotto Aslani e Lautaro. Per quanto riguarda i down, quindi dicevo Lautaro 7, Aslani 7, Frattesi 6,5 e anche Sanchez mi è piaciuto, ma non c'è spazio e quindi vediamo nel secondo tempo cosa fa. Allora, adesso dobbiamo far capire perché l'Inter e i meccanismi. Allora, per i meccanismi Bissec non proprio perfetto nelle scalate, anche se col fisico si è fatto valere, però per ora gli do un 5,5, mi dispiace un po' penalizzarlo, però per fotografare il primo tempo dobbiamo dire che dietro non tutto è funzionato bene, scelgo lui. Poi, e poi gli altri... Me ne puoi dare anche solo due o uno. Cioè, a Udero insomma in un'occasione ci ha fatto un po' tremare in un rinvio sbagliato sulla tre quarti. Vabbè, ma ti rinporta delle... Non penso così. No, no, però... Sì, io darei l'insufficienza a Dufri. Cioè, se è vero che l'Inter... Però ha creato due o tre palle lì. Eh, bravo. Dici, le poteva mettere meglio. Se invece che sui piedi di Dufris capitavano sui piedi di Darmian o dall'altra parte su di Marco, il risultato era diverso di uno. Dai, mettiamo allora Audero e Dufris con un 6-. Cioè, per l'imprecisione, sia in quel rinvio che in quei due cross. Non perché Dufris non sia stato in partita, anzi, però magari poteva pescare meglio il compagno. Ma è 6-0, non è una vera insufficienza. Sì, è chiaro. Sì, è proprio se il mezzo può andare a ricercare il 0-0. Per riempire la grafica. Però l'altro nome che a me non ha convinto più di tanto, nonostante... Forse perché si è mangiato l'occasione finita che abbiamo avuto il 0-0. Uguale, uguale anche Dufris. È Mkhitaryan. Io, in un centrocampo rivoluzionato con Aslani, che tu hai messo 7, forse... Anche troppo, dici. Anche troppo, sì, perché qualche errore poi la faccio. Si, ha premiato il gioiello dell'assist. E Frattesi, che sai che è un centrocampista diverso rispetto a Barella, da Mkhitaryan, mi aspetto, quella gestione che sta mancando. Però, però, allora, ha sbagliato quel tiro in diagonale, Emanuele. E in più ha sbagliato l'occasione della golpa. Ha sbagliato il diagonale. Sempre 6-5,5, vedi tu come metterlo. Però, con Frattesi che va, lui oggi sta facendo, diciamo, quasi il capitano, l'allenatore in campo. E quando anche il Lecce ha provato con il lancio lungo, lui è sempre nella posizione giusta. Poi magari ha sbagliato il tiro in diagonale. Però per me, tatticamente, è proprio preziosissimo, sempre, per come fai i movimenti in italiano. Io da lui, nel momento in cui mancano gli altri due, mi aspetto di più. Poi, stiamo ragionando fra 6-6 e 6-6. Per quanto riguarda gli altri modi, sei su tutto d'accordo? Sì, sì, abbastanza. Questi sono i giocatori. A me è piaciuto anche molto Carlos Augusto, perché se è vero che Bissek sballa... Lumpris lo metto negativo anche per il discorso fase difensiva. Doveva aiutare di più, sì. Spesso Volentieri si è trovato frattese a far la diagonale invece di Dupus, perché era sempre troppo oltre. Invece Carlos Augusto è una piacevole sorpresa da terzo di difesa. Fece il secondo tempo a Napoli, una partita che lo consacrò in questo ruolo. Da allora, quando il mister deve far riposare Inzaghi, deve far riposare Bastoni, va più su Carlos Augusto. Poi oggi non c'è Acerbi, che era l'alternativa. Ma Carlos Augusto dà anche la possibilità magari di aprire uno spiraglio per Biucanan, che infatti è stato provato a sinistra e non più a destra, perché se Carlos Augusto gioca dietro... Ecco, mi aspetto nel secondo tempo qualche cambio, magari chi abbiamo detto dall'inizio, i di Marco... Però Mkhitaryan fai fatica secondo me a toglierlo. Ma a meno che, vabbè, sì. Il cambio con Barella, ci può essere la staffetta con Barella. Se però Barella entra per stare lì, non per andare come al suo solito, perché se no se lui va a frattesiva vanno tutti davanti alla... La difesa, abbiamo visto, può andare in sofferenza perché il Lecce è molto aggressivo. Poi bisogna vedere quanto il Lecce possa continuare a essere aggressivo. Però d'Aversa ha tanti giocatori interessanti, tipo Bandà che può entrare, è stato recuperato, ma anche a centrocampo ha giocatori che utilizza spesso. Quindi la partita sarà decisivo chi entra. Bandà è fortissimo comunque. Io l'ho visto in Coppa d'Africa, era devastante sulla fascia. Eri in Africa? Eri in Africa tu? In Africa. No, sembrava quasi barbato quando giocava nel Trisobio. E' nato lato. Imprendibile. Una roba... No, io volevo dire che a prescindere dal risultato, comunque sia, questo primo tempo, mi ha quasi soddisfatto. Cioè sono comunque... Sono contenta per come stia rispondendo il Lecce in questo primo tempo. E secondo me hanno visto. Ah. L'ho visto correre sempre, insomma, sul pezzo. Peggiore? Per non fare dei veri e propri appendano, ma giusto migliore e peggiore. Guarda, peggiore ci sono forse due o tre persone, personaggi, che non ci sono visti tanto. Quindi forse è un po' la difesa. La difesa per il gol che abbiamo subito. Certo. Invece per quanto riguarda... Tuba, Tuba. Penso che sia il peggiore del Lecce perché si è perso l'autore in quello. Sì, è vero, è andato un po' in sofferenza. E anche chi è il terzino destro che l'ha tenuto in gioco? Gendrell, Gendrell, se era lui. Era lui che lo teniva in gioco. Perché è lui che l'ha tenuto in gioco. Rudy, per quanto invece riguarda gli up and down dell'Inter, ci sono nomi che ti convincono? Avresti cambiato qualcosa? In questa analisi proprio... No, dell'Inter non mi convince nessuno. Eh, va bene. Ma no, mi sembra un'analisi... Grazie alla regia. Borrelli ha tanti difetti, però devo dire, le analisi le fa abbastanza lucide, quindi questa è un'analisi lucida. Devo dire che la partita è molto godibile. Un'ora è a Lecce, ad Aversa, perché nonostante, devo dire, si è sbloccata dal gol preso. Se fosse stata così dall'inizio sarebbe... Non lo so, eh. Non so come sarebbe andata. Ancora lunga, vediamo se riescono a mantenere più che altro questi ritmi anche a secondo tempo, perché entrambe le squadre stanno giocando veramente a ritmi altissimi. Ecco. Era Baschierotto che teneva in gioco... Ah, Baschierotto. Quindi forse lui nei down. Che era sul centro-destra. No, ma Baschierotto secondo me non ha fatto una brutta partita. Perché il Lecce si prende dei rischi, i due centrali non è facile giocare con l'Ottaro. Sono sempre esposti, soprattutto se giochi così alto. Ma volevo dire, solo i dati del primo tempo. 8-4 i tiri del Lecce, a favore del Lecce, ma in porta 2-0 per l'Inter. Eh. Quindi il Lecce alla fine non ha preso la porta. E poi sono quelli che contano. Il possesso 61-39, perché il Lecce va più di ripartenza e l'Inter più di possesso. Calci d'angolo 4-3. Insomma, i numeri che fotografano anche un po' bene. C'è l'Inter che ha i punti, merita il vantaggio, ma il Lecce che è vivo ed è in partita. Per quanto riguarda il ritmo, Simone, lui diceva che non so se queste due squadre possano mantenere questo ritmo. Forse il Lecce è un po' più in difficoltà per quanto riguarda il mantenere questo ritmo così serrato e comunque mettere in difficoltà l'Inter. Ma secondo me il Lecce può anche aumentare il ritmo. L'Inter deve stare attenta nel secondo tempo. Non deve sottovalutare l'avversario, dici. Come ha detto giustamente Borrelli a inizio trasmissione, farà dei cambi in Zaghi. Perché se continuiamo così, secondo me, possiamo andare in difficoltà. Due cambi, anche solo due cambi, ma secondo me... Più Aslani non lo toglierei anche se ammonito, perché non andrei a fare altri esperimenti in mezzo. Gli chiedo di non rischiare sul fallo e lo lascerei. Mentre Biucana di Marco me l'aspetto, magari dopo... Al sessantesimo classico. 15-20 minuti, perché Biucana se il Lecce poi sta perdendo si deve sbilanciare sempre di più e Biucana è un giocatore che ha gamba un po' alla Turam che oggi non c'è e si sente. Poi per il resto Arnautovic... E invece sai dove lo aspetto io a Biucana? Sì. Al posto di Sanchez. Ah, addirittura. Seconda punta. Perché non ce l'hai la quarta punta, perché Turam è fortunato. Ci sta, perché ha fatto il tipo di lavoro. Arnautovic per Lautaro è uno che attacca la profondità al dribbling, all'uno contro uno. Quindi secondo me può far bene anche in quello lì, anche se non è il suo. Poi nel... Quindi dice che ha tre punte. No, no, al posto di Sanchez. Fa la seconda punta, adattata, perché non lo è. Però dipende di Marco come sta, perché siccome ha giocato tutta la partita, se lui pensa che lo deve far rifiatare, non ha cambi se non Biucana, perché Carlos Augusto è dietro. Quindi allora, Arnautovic-Lautaro sì, a un certo punto dovrà avere il coraggio di farlo, perché non è che può spremere Lautaro pure oggi 95 minuti. L'altro Biucana... Però Lautaro non lo togli se non hai almeno un secondo gol di scarto. Eh, lo so, però se il Lecce avanza, quindi deve fare comunque sempre più scatti, strappi. Cioè bisogna stare... Ci rischi dopo il turno di Coppa di mercoledì. Esatto, non si può rischiare di perdere Lautaro. Comunque Bastoni e Pavar ce li ha in panchina. Pavar non è che ha giocato tutta la stagione, se fa 30 minuti può farlo. Ecco, Pavar e Barella, se serve un po' puntellare, a un certo punto potrebbero essere più di bastoni, secondo me, perché Carlos Augusto tutta la partita può fare lì. Metto Bisseca a fare il braccetto sinistro al posto di Carlos Augusto, gli faccio fare tutta la partita. Sì, sì, Dumfries non lo toccherei, Frattesi non lo toccherei. Sì, più che tutto che tu con l'Atletico hai solo un gol di scarto, quindi non hai neanche tutta questa distanza. Ma peraltro c'è l'Atalanta che corre più dall'Atletico. Ah, no, scusate, certo. Mercoledì è l'Atalanta, quindi diciamo Di Marco, Lautaro e poi con il tempo anche magari qualche altro... In segno di vittoria, non in segno di parola. No, volevo, già che ci sono, finisco questa cosa breve che volevo dire. Quante volte si sono visti giocatori interessanti giovani? Tipo, faccio un esempio, Caramo. Io ero San Siro e ho visto Caramo cambiare una partita. Mi sono... Caramo con queste trecine. Mi ero quasi innamorato e poi lo danno via. Cioè, ti innamori quasi dei giocatori e poi li danno via in prestito. E invece Aslani, finalmente è l'esempio di un giocatore giovane in cui la società ci deve credere. E sono contento perché spero che Aslani diventi una pedina importante del centrocampo nero-azzurro. E ora riparte l'Inter con Mkhitaryan, attenzione perché ha lo spazio. Il treno armeno parte, il treno armeno se ne va, uh, balla al centro. Che viene per ora è spinta, peccato, da Ahmed Touba che ci mette una pezza. E qui Mkhitaryan aveva una prateria, però poi alla fine il passaggio non è stato precisissimo. Caro Simone è stato anche Aslani che quest'estate, quando si è prospettato lo scambio con Maxime Lopez, l'ultimo gioco di mercato, ha detto no, io voglio restare. Bravo, hai detto una cosa, infatti questo è un elemento importantissimo. Ci ha creduto molto anche lui. E' stato bravissimo lui perché tanti giovani, il 99% dicono Voglio giocare di più. No, qua non giocherò mai in questo squadrone e quindi vado a lei. E invece lui è stato molto intelligente e piano piano si sta conquistando. E ora batte il calcio d'angolo, Aslani per Sanchez, calcio d'angolo corto. Attenzione ancora Sanchez in mezzo, sbaglia però il passaggio e quindi a buon gioco la squadra giallorossa a ripartire per un attimo perché poi ha ancora Mkhitaryan che va sempre lì dietro. Il corner corti, questa maledetta invenzione. Io voglio le statistiche dei gol segnati su corner battò corto rispetto a quelli battuti direttamente in mezzo. Trama, ma secondo te sbagliano o lo fanno apposta? No, lo fanno apposta perché loro vogliono tirare fuori almeno un uomo dall'aria di rigore. La cosa a farli è che poi sbagliano concretamente nel come li mettono in atto. Cioè la percezione che ho io, spettatore, è che hanno sbagliato il cross. No, la tirata bassa l'ha sbagliato. Invece tu dici no, è voluto. No, 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 è uno schema per tirare fuori uomini dall'aria. È voluto fare il passaggio corto per poi crossarla in mezzo. È che 9 volte su 10 quel passaggio non te lo fanno fare e quindi è inutile farlo. Sì, perché se non c'è il tuo uomo e te la intercettano. Vabbè, e comunque ti sei innamorato, Censi, insomma. Con tutte le nuove. Caramo, Censi. No, ho fatto l'esempio. Hai preso proprio... C'ha l'innamoramento facile. Ho fatto l'autare, no? Ho fatto l'esempio. Casa Deito, che almeno... No, però aveva quelle giocate che ti facevano sembrare... Sì, perché una ne ha fatta quando... Col Bologna fece un gol strepitoso. Col Palma forse era. Mi sembrava col Palma. Col Bologna in casa. Col Bologna in casa fece un gol strepitoso. Ho fatto un esempio perché il tifoso vede nella propria squadra entrare un personaggio sconosciuto e ribaltare la partita. Attenzione pericolo, la partenza dal basso, un po' di brividi, poi alla fine Audero, Aslani e Bissek se la cavano. E Bissek se ne va, si fa tutto il campo. Attenzione a Bissek per Sanchez. Se passa questa palla. Ancora Sanchez sulla destra, in aria di rigore. Attenzione, alza la testa. Ora va con il decolo. Di Frattesi. E c'è! Di Davide Frattesi. L'assist di Alexis Sanchez. Entra in gol alla volta. Frattesi sul primo palo e la mette dentro. Inter che raddoppia. Terzo gol in Serie A. Ancora Frattesi, bravissimo nell'inserimento. E Falcone si arrabbia con i suoi. Dice, lo dovete seguire. Ma Frattesi, evidentemente, specialista di questo movimento. Ancora rivediamo l'azione con Sanchez Lautaro. Sanchez sul fondo. Se la porta sul destro, la stop alza la testa. E poi Frattesi, bravissimo. Bravo, Nigno. Va a rubare il tempo a Tuba alle sue spalle. Si inserisce sul primo palo. E la mette dentro. Inter, Nazionale 2. Lecce 0 al 54esimo. Si mette bene, ragazzi. Bisogna dire che il 70% del gol è di Sanchez. Sentiamo come spegne gli animi. No, è di Sanchez. Il gol è bello, non si può dire niente. Però bellissima la cavalcata di Bisse. Che poi dopo Sanchez... Frattesi ha fatto un bel movimento, ma l'ha appoggiata dentro. Devo dire che i due fautori sono... Sì, sì, la giocata di Bisse. Soprattutto Sanchez, devo dire. Perché ha insistito particolarmente nel cercare il gol. Ragazzi, ripartiamola qua, Dope Emanuele. Se la stanno controllando Alvaro oppure no. Perché sul primo passaggio di Lautaro verso... C'è la giocata del difensore del Lecce. Però la fa su una posizione di fuorigioco. Quindi l'abbiamo chiamato tanto. Alla fine entra Marella. Proprio per Marella. Però sul 2-0 ci stanno. Il gol è regolare. Bene, bene. A Bisse che è arrivata la notizia del down nel primo tempo. Dice, ma come vi siete per me? Ha preso la palla dalla difesa e ha trasformato l'azione da difensiva in offensiva. Come vi siete per me? 5 e mezzo di Michele Morelli lo ha svegliato. Sale al 6 più. Poi ha detto, è arrivato al ridosso dell'aria di rigore. Consegno il pallone a chi con i piedi ci sa fare. Quindi Sanchez poi... Metà golle di Sanchez. Anzi, facciamo così. Come direbbe Troisi con Benigni 33. 33, 33. Cioè Bissek, Sanchez e Frattesi. Perché Frattesi è bravo a finalizzare ancora una volta. E allora ragazzi, ci fermiamo. Ripartiamo da qua. Lecce 0, Inter 2. Attenzione ancora all'Inter. Palla per Lautaro e gol del Toro. Azione da destra dell'Inter ancora Davide Frattesi. Il cross da destra, contropiede dell'Inter. Con Lautaro che si inserisce nel momento giusto. E come dice Simone Barbato, in questo momento Internazionale 3. Lecce 0. Ancora Lautaro che sale a quota 22. I pazzi, era pazza Inter una volta. Adesso è un Inter che dice sempre presente. Grande break di Frattesi. Ora stanno controllando se Lautaro è scattato sul filo del fuorigioco al momento giusto. Credo di sì. Ancora grande break di Frattesi. Eh sì, l'ha sbloccata ulteriormente l'Inter 3 a 0. Più che sbloccata l'ha proprio siglata, sigillata. Attenzione ancora palla lunga per Lautaro. Ormai il Lecce è molto sbilanciato e l'Inter negli spazi si esalta. Doppietta per Lautaro stavolta. Niente da fare per lui adesso. Toglilo! Per i telespettatori ho il gol e l'esultanza di Lautaro Martinez. Gol e poi l'esultanza. Al rallenti quasi. Possiamo dire Simone Vlaovic chiama, Lautaro risponde. Siamo 2 a 2 e vediamo se finisce qua perché per Lautaro adesso potrebbe anche arrivare il meritato riposo. E quello che dicevamo. Sessantesimo al momento. Allora tanti i cambi intanto per D'Aversa. Il minuto c'è e la rete c'è ragazzi. Già D'Aversa stava facendo riscaldare, stava per fare entrare i suoi dopo il 2 a 0. Poi l'ha fatto dopo il terzo perché l'Inter dopo il secondo gol al 55esimo, pochi secondi dopo, dopo un minuto e mezzo, ha fatto il terzo con dunque i frattesi, frattesi che si è involato e ora ancora Inter in contropiede è veramente festa per tutti i giocatori che vanno nello spazio. Ora anche Barella che è entrato abbiamo detto al posto di Aslani. Mentre per quanto riguarda D'Aversa però vediamo prima l'azione con Mkhitaryan di Marco a sinistra, il cross di Di Marco, palla deviata, calcio d'angolo. Allora Bandà per Sansone, Gonzales per il povero Tubà che dopo il primo gol, anche se abbiamo detto è più baschirotto che tiene in gioco Lautaro sul primo gol. Ora ci fanno vedere anche la linea del terzo gol dell'Inter, Lautaro in gioco. È proprio un pelo come diceva prima Emanuele. Gonzales per Tubà e Cabà per Rafià. Fanno tutti così. Rima. Anche rima perché tra francesi, algerini, tunisini siamo molto sul francese, sul francese in San. Siamo molto sull'accento finale della parola. Esatto. Calcio d'angolo di Sanchez. E con questo Lautaro in questa stagione sale a 22. 22 più 3 perché sono due in Champions e il gol decisivo in finale di Supercoppa. Siamo a 25 stagionali, l'anno scorso il suo record è 28, in campionato siamo già al record 21. Ecco prima Michele. 22. 22, il suo record era 21 e quindi è battuto. Ah scusami, già superato, certo. Attenzione, palla lunga per Sanchez che però non riesce a tenere, era un po' troppo lunga. Scusa Simone. Prima hai fatto riferimento al percorso del Napoli in rapporto a quello dell'Inter. ora ti chiedo, visto che tu sei il maestro dei numeri, chi se non temi può dire questa cosa? Sì. E quanto gli manca a Lautaro per essere come Iguain quell'anno famoso in cui ha fatto quei gol? Quanti ne ha fatto? Fece 36, ma anche Immobile con diversi rigori, ma allenato da Inzaghi, fece 36 come Iguain. Qui Lautaro ne ha saltate due, quindi finora questa per lui è la ventitresima presenza ed ha 22 gol in 23 partite, ne dovrebbe fare ancora 14. No, se ne ha saltate due, 24. No, perché il 25 è una partita per l'Inter, perché è una partita in meno. E quindi 22 e 23. Come lullino di marcia però siamo lì. E dovrebbe fare, attenzione Mkhitaryan che qua prova il dribbling, viene atterrato ma non c'è fallo e quindi riparte il legge, ora il fallo di Mkhitaryan che viene ammonito un po' ingenuamente qua. Giallo proprio slupido. È andato a cercarlo. Sì, che potevi anche, anche perché in quel momento lì non è che stava andando a gol, quindi potevi anche evitarti. No, ma poi era una ripartenza. Era una ripartenza, gli è venuto spontaneo, stava andando a controllare un po' come siamo messi a Gialli per quanto gli riguarda, sì, come temevo, entra in diffida anche Mkhitaryan come bastoni perché questo è il quarto giallo, però è un Inter che vola, per dire Simone, con i gol fatti anche a 62 gol fatti. Lautaro a 22, gli ne mancherebbero 14 in 13 giornate. Però Iguain a questo punto della stagione, quanta differenza c'era con questa giornata? Non lo so, a questa giornata non lo so. Più o meno, secondo me, provo a controllare. Forse un po' di più perché poi alla fine mi sembra che ha avuto un po' un calo a un certo punto. Anche Lautaro, se vogliamo, a febbraio, però oggi si sta rifacendo. Io lo toglierei, ripeto, qui l'Inter ha degli obiettivi importanti anche in Europa. Cosa sta aspettando, toglierlo, mister Igiaghi? Quello che mi chiedo anch'io, anche perché Arnautovic magari è in fiducia. Ecco, stanno per entrare. L'abbiamo chiamati Klassen e Arnautovic, chirurgici, i cambi saranno Mkhitaryan e Lautaro. Ve lo dico perché attenzione, il tiro di piccoli! Mamma mia che tiro! E lui ce l'ha questo tiro dalla lunga distanza, quasi dalla tre quarti di sinistro. Palla che non esce di molto alla destra di Audero, il numero 91 del Lecce. Vediamo di quanto è uscita. È una uscita abbastanza. Però è il terzo tiro che comunque piccoli questa sera fa... Audero ci tiene anche a chiudere con zero gol subiti. Perché si è detto tanto che ha preso tre gol col Benfica, due gol col Bologna. Vuole anche lui uscire con zero gol. L'Inter che ha 21 clean sheet in stagione 15 in campionato. Insegue il 22esimo in stagione clean sheet. È proprio Lautaro e Mkhitaryan. Era troppo facile prevederlo. Eh, dopo il giallo poi. Il giallo poi è stata proprio la consacrazione. Ora ci proiettiamo sul prossimo di cambio. Buganan per Di Marco, dai. Ok. Qua quanto è dato Emanuele? Pochissimo. A 1,01 è dato. Lautaro che incoraggia Arnautovic. Dice ora tocca a te e Arnautovic gli risponde in argentino vamos, vamos capitano. Quattro gol per lui, per Arnautovic. Abbraccio anche Inzaghi. Che in striscia positiva Arnautovic. Perché assist con la Roma, gol del 4-0 con la Saleritana, gol dell'1-0 con l'Atletico. Vuole continuare a mettere la firma. Vediamo se ci riesce in questa mezz'ora scarsa che manca. Inter ora con Barella che imposta. Sanchez anticipato ma ancora Klassen. È entrato anche lui l'olandese per un Inter oggi all'olandese. non in maglia arancione ma tre orangi in campo. De Vrij, Dunfis e ora anche Klassen. Carlos Augusto. Diciamo che meglio di così non poteva andare. Cioè hai cambiato tanti giocatori. Ora fai riposare quei pochi che invece erano partiti all'inizio. Stai vincendo 3-0. Veramente una bella domenica per l'Inter. Vai a giocare, ti recupero con l'Atalanta serenamente. Anche se qui Dunfis fa una cosa strana perché per arpionare la palla la prende male e fa un assist a Banda. Si vuole il tiro fuori. Mamma mia. Mamma mia. Pericolo, pericolo, pericolo. Le gira di 5 minuti. Il Lecce comunque non demorde. No, il Lecce anzi fino alla fine attacca. Attaccherà fino all'ultimo. Anzi, spesso è successo che proprio all'ultimo ha fatto un gol o due gol. In questo caso ce ne vorrebbero tre. La vedo un po' difficile. Però comunque non molla. C'è una sola squadra che Rudy ricorda bene che in 6 minuti era proprio questi minuti qua dal sessantesimo al sessantaseiesimo. Ne prese tre. Iguain aveva... Guardi la tua vittoria di oggi. Mi è venuto in mente, visto che dicete che sarà difficile farlo. Ah, sì, perfetto per Borrelli. No, 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 tutto può succedere. Ti vago nella porta di Rudy. Adesso se fai il 3-3 non mi fa uscire vivo. Ti vengo a prendere. Sto male. Comunque giusto per completare, Iguain alla venticinquesima giornata aveva fatto 24 gol l'anno dei 36. Siamo in ritmo. Quindi più due gol aveva fatto. Ah, vedi, 24 e qua siamo a... Quindi secondo me può farcela. Il campionato 22. Sì, sì. Ma la bravura di Emanuele Dramarcieri che va a cercare anche questi dati. Wow. No, interessante questa cosa perché veramente lo può anche superare. Beh, oddio, adesso... Per l'Inter il Regolman è Angelillo con 33 in 33. La mitica 33 in 33 del 58-59. 33 che quindi sarebbero però meno di Iguain. Sì, sì. Però dobbiamo tenere presente che c'erano meno partite. Il campionato non ha 20 squadre, esatto. Insomma, si inseguono record, si inseguono record. Ma anche credo questa differenza, Reti, senza credo, 62 gol fatti e 12 subiti più 50 alla venticinquesima. Un punteggio eccezionale. Calcio d'angolo per l'Inter. È il numero 7, 67esimo. Di Marco, palla che spiove in aria. Il colpo di testa. E' il gol di Stefan De Vrij. Che merita questo gol per la sua plegazione. Primo gol in questo campionato. Ha aspettato il suo momento. L'infortunio di Acerbi che però è quasi recuperato. E anche De Vrij mette il sigillo. Non faccio in tempo a dire 62esimo gol che arriva il 63esimo. Gol dell'Inter. 4-0 a Lecce. A metà secondo tempo. Bella pennellata di Di Marco da calcio d'angolo. Stacca il tulipano volante De Vrij. E la mette quasi all'incrocio dei pali. Vediamo. E non distante. Sotto l'incrocio alla destra dove Falcone nulla può. Inter 4-0. Corner non battuto corto. Battuto diretto a centro aria. Benissimo. Non aggiungo altro vostro onore. Arnautovic, attenzione. Quasi manita per l'Inter che continua a spingere. La parata di Falcone con il piede destro alla garella. Con la punta del piede. Grande parata sul filo di Arnautovic che si dispera. Dice perché sempre con me. Volevo chiedere una cosa a Borrelli. Quanto dura la partita ancora esattamente. Allora dura ancora esattamente. Il Milanista non ce la faccio più. 12 minuti. Poi D'Aversa getterà la spugna. Dai 11 più recupero. Sono entrati. Attenzione prima l'angolo. Sanchez palla in mezzo. L'avevamo predetto. Infatti Biucana è entrato al posto di Di Marco. Ma la sorpresa è Benezer Akin Sammiro al posto di Prattesi. Ragazzo nigeriano del 2004. Primavera dell'Inter. Vediamo oggi come andrà. Che ha giocato ieri il derby pareggiato 1-1 contro il Milan. Gran gol di Kamatè. La risposta di Kamarda. Il gioiello della primavera del Milan. Ma anche Kamatè. Grandissimo gol. Entra intanto Beriscia. Esce Ramadani. Ha giocato ieri questo ragazzo? Ha giocato ieri sì. Il derby primavera. Il mio pupillo senza averlo visto giocare. Come Caramon. Come le trecine. Come Caramon. Gli vedono tutti i tuoi pupilli. Completiamo i cambi. Perché è entrato anche al posto di Onquist. Uden. Che era in ballottaggio. Prima che era il mago. Ma è Uden. Ecco come valutate i cambi? Direi tutti approvati. Sì sì. Voto in zaghi ragazzi? Ma voto. Se cambia tutti e vince 4-0. Merito di chi è entrato in campo. Metterli tra l'8-9. Questi sono ormai i voti. Perché l'Inter gioca. E anche come diceva Simone. Non è che va di rabbia. Sempre molto pensata. Clicca il bottone. Come si dice. Modalità gioco. Sul plus. Sul velluto. Ah pensavo sul plus. Una volta mi ricordo Conte. Proprio a Lecce. Tra l'altro. Era il primo anno dell'Inter di Conte. Segnò bastoni. Fu il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Disse Conte. Perché la partita finì 1-1. Alla fine della partita. Se pensiamo di poter andare a vincere il campionato. A velocità di crociera. Ci siamo sbagliati. Noi dobbiamo dare il 200% per vincere le partite. Invece questa squadra. Velocità di crociera. Quattro anni dopo. Sembra andare alla sua velocità di crociera. Velocità di crociera. Beh con il Lecce è un po' facile. Perché te l'ho detto ha fatto questi gol con tutti. Cioè ha fatto cinque gol a Monza. Ha fatto quattro gol. Ma anche con la Juventus abbiamo fatto più o meno la partita. Sì quando non fa quattro gol è perché spreca. Cinque gol al Milan. In modo un po' strano. Perché c'è stato il calcio d'angolo del Lecce. Respinge Klaassen. La palla rimane al giocatore del Lecce. Arriva un fischio dell'arbitro. E il giocatore del Lecce dice ma perché? L'arbitro ci pensa. Passano i secondi. Tutti non capiscono. Secondo e terzo fischio. Dice va bene può finire. Non c'è capito perché è il suspense in giustificato. A caso. Allora. 4-0. 4-0 per l'Inter. Ragazzi 4-0 per l'Inter che vince in trasferta con il Lecce Poker. Facciamo in tempo a dispensare qualche sette, qualche otto. Blinda Gosil primo posto in classifica a 66 punti. Record. Sì sull'Apoli a più. 2006-2007 stagione. Esatto esatto sì. Vi arriva il pareggio alla settima giornata con l'Udinese. Fu un girone intero senza sempre vittoria. Posso dire, posso spendere gli ultimi dieci secondi della mia vita? Seconda stella destra, questo è il cammino. E poi dritto. Attenzione, attenzione. No, se non me la fate fare. Era la chiusura di questa partita. Giusto. Seconda stella destra, questo è il cammino. Mi chiede che cuce la seconda stella. Iniziamo, iniziamo poco la volta. Aspetta, la voglio fare vicino a Borrelli. Io volevo il commento finale nel frattempo. Un bel 8 all'autaro, un bel 7 e mezzo a Frattesi, un bel 7 a De Vrij. Tre marcatori, però anche Sanchez 7 ha fatto una bella partita. I down non ci sono. 5 ad un free. Un Inter stralipante, un Inter che viaggia veramente a medie atomiche. 10 vittorie su 10 nel 2024. Ormai non è una novità. Ormai io mi sono assuefatto a questo dominio nerazzurro. Tutti dicevamo che era la squadra più candidata a vincere lo Scudetto, si sta confermando tale. Ormai è un rullo compressore. Quindi non mi stupisce nemmeno più, non chiedo nemmeno più il risultato perché tanto so che vince sempre. Chissà se non si stupisce più neanche Massimo Brambati. Ciao Bramba, ben ritrovato. Ciao Francesco, buonasera a tutti. Buonasera a tutti gli amici a casa e a quelli in studio. Max, campionato archiviato secondo te ormai? Per quello che sto vedendo sì, perché non vedo solo l'Inter, come giustamente ha detto Marcello. Quindi non vedo solo il strapotere di questa squadra, ma vedo anche che le altre fanno fatica. Il ritardo del Milan è sicuramente dovuto più a quello che ha perso all'inizio che quello che invece può aver perso ultimamente, perché ultimamente ha perso poco. Il fatto della Juventus che forse, anzi probabilmente non era attrezzata e non lo è tuttora per arrivare fino in fondo, anche se qualcuno poi ha continuato, visto i risultati, a dire che probabilmente senza coppe avrebbe, avrebbe. Probabilmente non abbiamo seguito bene quello che diceva Allegri in tutto questo periodo e da qui viene fuori il fatto che l'Inter, secondo me, dico anche finalmente, perché io credo che Inzaghi ha avuto le squadre per vincere, secondo me, negli ultimi tre anni, non solo in questo. Anche l'anno scorso e anche due anni fa aveva, secondo me, in mano una squadra fatta da Ausilio e Marotta, in, diciamo così, in punta di situazioni economiche critiche, però sono sempre state fatte delle squadre importanti e squadre che potessero ambire al titolo nazionale e quest'anno forse anche a quello europeo. Che poi, Mariana, mi sembra un campionato che si sta incanalando sulla falsariga di quello scorso, cioè con una squadra che domina, l'anno scorso era il Napoli e quest'anno l'Inter, e un gap che forse il Napoli aveva scavato prima, perché tutto sommato... Si, aveva ottenuto una differenza sostanziale già prima. Mentre l'Inter lo sta facendo adesso, però la sostanza non è che cambi moltissimo. No, siamo... Sì, esatto, il paragone è lo stesso dell'anno scorso. Sicuramente, penso che le avversarie però potessero essere un pochino più ostiche quest'anno, perché per come era iniziato, e comunque l'abbiamo visto che lo stacco non c'è, è stato così in maniera enorme fino a esattamente a quattro giornate fa. Quindi tutto era ancora fattibile, sia per la Juventus soprattutto, che anche per il Milan. Poi, in effetti, ora il Divar, la differenza comunque sono di nuovo 11 punti, quindi questo fa pensare che ormai l'Inter sia la macchina perfetta. L'abbiamo visto anche oggi con dei cambi di formazione, che comunque non hanno fatto scalpore in maniera negativa, ma tutt'altro, infatti. Abbiamo visto dei cambi in attacco con Sanchez e Lautaro, lo stesso portiere con Audero al posto di Sommer, che era fuori per la febbre. In difesa, se non sbaglio, c'era Bissek. Quindi comunque c'è stata una variazione di formazione, ma il risultato non è cambiato. Mancava il famoso Celanoglu, quando si diceva l'Inter senza Celanoglu. Ha giocato a Slani, ha vinto 4-0 a Lecce, c'era la fine. Infatti, si può dire benissimo che l'Inter ha una doppia squadra, perché tante volte anche chi subentra dalla panchina rende ancora di più del titolare stesso, magari. E questo sicuramente è un punto di forza che ha l'Inter di Inzaghi. Per rendersi ancora più conto, fra, sarò proprio telegrafico, dello strapotere che sta avendo l'Inter quest'anno, si fa il confronto col campionato dell'anno scorso dopo 25 giornate, perché l'Inter finora è una giornata di 25, e ha un punto in più del Napoli. Cioè, è qualcosa di incredibile. Lo scorso anno sembrava una roba incredibile, perché seconda, terza e quarta erano a 15 punti. Quest'anno la Juventus ci ha provato finché ha potuto, però l'Inter sta facendo un cammino eccellente. E tra l'altro andrà a pari partite mercoledì, quando appunto ci sarà poi Inter-Atalanta. Sappiamo che c'è stata un po' di polemica da parte dell'Atalanta alle due volte a Milano. Ha anche ragione, ha anche ragione. Ha anche ragione, certo, certo. Ma del resto chi è che fa i calendari in Lega? Mi guardi così, chi è che fa i calendari in Lega? Io lo so. A chi lo so? Ma spero che il riferimento non sia lo stesso. No, però, cioè, in Lega, a occuparsi dei calendari, è un ex dirigente dell'Inter. Ma no, dai, Marcello, no. Speravo non lo dicessi, ma... Come no? Sì, sì, ce l'aveva lì, ce l'aveva lì. E c'è niente di male. No, no, ma è proprio sbagliato, perdonami, non è così. Come non è così? Come non è così? No, non è così. Non è così. Andrea Butti non fa i calendari. Andrea Butti è una delle figure che sovraintende alla gestione dei calendari, ma non è lui che li fa. Sovraintende alla gestione dei calendari. No, no. Bisognerebbe spiegarla un po' meglio, perdonami. In questo caso non mi sembra giusto coinvolgere una persona... No, io non coinvolto nessuno. Ci sono dei parametri e, credimi, che mi è stato spiegato il criterio con cui vengono fatti i calendari, ti garantisco che non è proprio un lavoro semplicissimo. Scusa, Bonfi, non la sto facendo io. L'ha fatta Gasperini, l'hanno fatta anche altri allenatori, quindi non è che è Marcello Chirico. Marcello Chirico conta 0,0 periodico. Il problema è che quando gli allenatori incominciano a polemizzare vuol dire che c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non va bene. Perché Gasperini non ha tutti i torti a dire. Ma scusate, devo giocare con il Milan la domenica e mi metti già il mercoledì dopo con subito... E quando la recuperava con l'Inter? Non lo so. Ah, ecco. Questa è una bella risposta. Il calendario non ce l'ho io. Non lo so. Non ce l'ho io su domani. Però scusa, però scusa, Bonfa. Sì. Ti faccio una domanda. Perché non è solo il giorno. Io ti chiedo, ma Cagliari-Napoli e Lecce-Inter? Scusami, per gli orari io dico. Ma Cagliari-Napoli tu la dovresti... Visto che il Napoli ha giocato mercoledì, tu eventualmente se la vuoi far giocare alla domenica la dovresti far giocare Cagliari-Napoli alle 18. E Lecce-Inter alle 15. Li dipende sempre dagli slot televisivi, però Massimo, non è la Lega che decide. Non è la Lega che decide. Ho capito. Allora, se noi continuiamo ad andare avanti a pensare agli slot televisivi, vedremo un giorno i giocatori che si rompono, che si fanno male, che non ne hanno più. Perché adesso stiamo ancora guardando la Champions fatta così. Quando ci sarà la Champions allargata, le partite saranno di più e vedremo in quanti giocano. Infatti si stanno programmando delle squadre di 30 giocatori, non più di 20 o 25. Di 30 o 35. Quello sicuramente. Eccoci qui, allora, di nuovo insieme per commentare un po' tutto quello che è successo anche in questa giornata. Il nostro titolo parla di un'Inter esagerata e di un Rugani che salva la Juve al 95esimo. Possiamo aggiungerci anche il fatto che il Napoli invece è rimasto beffato al 96esimo dopo il pareggio convincente in Champions League contro il Barcellona. Calzona, la sua prima in Serie A la guida del Napoli. Non è andato oltre l'1-1 a Cagliari. Gol di Osiman, che peraltro è uscito anche infortunato. Quindi attenzione perché un minimo di allarme c'è. Non è andato oltre l'1 pari e oggettivamente il Napoli classifica la mano. È parecchio lontano dalla zona Champions. Volevi intervenire tu Massimo? Ho visto una... No, no, sì, no. Io stavo facendo una piccola riflessione. non so se posso... Vai, rifletti con noi. Che fa una parentesi. No, che fa una parentesi un po' con quella che è stata la conferenza di Pioli. Io stamattina la partita della Juve non l'ho vista perché qui erano le sei e mezza di mattina. Però ho fatto in tempo a vedere poi anche, diciamo così, l'intervista di Allegri. A me sembra, uso un eufemismo, che giornalisti di oggi siano poco incisivi. Intanto perché ho visto oggi l'intervista di Allegri tutta fatta di... diciamo, tutta dolce. Poi va via Allegri e lo ammazzano. E questa mi sembra una cosa, secondo me, non carina. Adesso c'è Pioli. Ci sono schiere di giornalisti che dovrebbero chiedere a Pioli in questo caso quando l'Inter vince a Lecce e il Milan pareggia in casa con l'Atalanta aumenta ancora di più il distacco tra il Milan e la prima che guarda a casa e l'Inter. Ma lui fino a un po' di tempo fa parlava ancora di Scudetto. Perché nessuno tra i giornalisti presenti non fa questa domanda a Pioli? Visto che un po' di tempo fa parlava ancora di Scudetto e all'inizio dell'anno ha parlato chiaramente di Scudetto. Io mi domando questo. Perché non fargli queste domande? Perché io la domanda che faccio è al netto di tutto quello che è successo stasera io vorrei capire il perché di questo ritardo. Il Milan ha avuto la Champions che ha fruttato non so quanti milioni di euro da spendere sul mercato. Ha avuto gli 80 milioni di guadagno sulla vendita di Tonali. non so che plus valenza ha generato. Ha fatto una campagna acquisti secondo me sontuosa perché 12 calciatori di cui qualcuno secondo me di alto livello. Però c'è un distacco secondo me che va a imputarsi non solo al grandissimo campionato dell'Inter ma secondo me a delle mancanze del Milan. E qui io Pioli invece di parlare del rigore di stasera io l'avrei voluto sentire su questo tipo di argomento. No no è legittima come osservazione la tua Max questo è vero insomma classifica la mano il Milan è comunque distaccato ben più di quanto ci si potesse sono tantissimi punti eh no sono 13 punti potenzialmente 16 sono 13 punti potenzialmente 16 se l'Inter batte l'Atalanta certo diventa il distacco rispetto al Napoli dell'anno scorso insomma in buona sostanza insomma ecco no no ma l'anno scorso scusami però lo dico in funzione del fatto io l'anno scorso ho criticato Inzaghi e ho criticato l'Inter perché secondo me l'Inter era strutturata per stare vicino al Napoli nonostante il Napoli facesse in quel momento un campionato straordinario però qui non si può tra virgolette dare e rimetto le virgolette la colpa a chi scappa o chi fa campionati straordinari e rifugiarsi dietro i campionati straordinari degli altri per delle mancanze proprie secondo me il Milan secondo me con la campagna acquisti che ha fatto non si doveva accontentare a mio avviso di un distacco del genere io non dico che deve vincere però sicuramente di essere lì a combattere fino alla fine Sei d'accordo Tiziano era legittimo immaginare su Milan più vicino alla zona Scudetto? Eravamo quasi certi che fosse più vicino alla Scudetto dopo la campagna acquisti poi dopo in funzione del rendimento negativo di alcuni giocatori che avrebbero dovuto dare consentire il salto di qualità abbiamo dovuto rivedere e fare delle critiche sia a chi ha fatto la campagna acquista e sia a chi ha gestito la squadra perché scusa una parentesi che c'entra poco ma è secondo me la dimostrazione di quanto possa incidere un allenatore vogliamo parlare dell'Empoli Nicola ha ottenuto sì dall'Empoli non ha il Milan che si confronta con l'Inter con la Juventus e compagnia bella ma è l'ulteriore di una sconfizione che un allenatore può incidere notevolmente no no è vero è vero è vero restando invece sulla Juventus volevo farvi ascoltare un passaggio di Max Allegri lo dico la regia la seconda in scaletta quella sulla corsa Champions League perché insomma di fatto la Juventus che riduce da due punti nelle ultime quattro comunque al 95esimo proprio sul filo di lana con Rugani ha strappato questo 3-2 preziosissimo al Frosinone che di fatto le permette di puntellare il secondo posto allora a proposito della corsa Champions andiamo ad ascoltare cosa ha detto Max Allegri vincere le partite non è facile è molto complicato è molto difficile soprattutto poi quando sei in questi periodi dove fai due punti in quattro partite e giochi nella Juventus e quindi diciamo in un mese siamo passati a giocare uno scontro diretto per lo scudetto a passare a giocare una partita importante come quella di oggi con una pressione importante perché comunque oggi un risultato che non sarebbe stata la vittoria sicuramente ci avrebbe lasciato uno la mano in bocca e due sicuramente ha molta più preoccupazione di quella che abbiamo ora anche se la scorsa Champions è molto lunga vincere oggi vuol dire rimettere Bologna a 9 punti in questo momento qui l'Atalanta a 12 a 12 partite alla fine questo è molto importante però bisogna fare ancora tanti punti quindi oggi è importante vincere per riassaporare il gusto della vittoria perché altrimenti ci abituiamo a perdere e questo non va bene non vincere oggi col Frosinone voleva dire a cui era una crisi abbastanza evidente credo che tu guardi con una certa c'è Napoli-Juve domenica prossima è altra partitona però classifica la mano non dico che tu possa stare più tranquillo però immaginati a 55 anziché a 57 con un pareggio in casa con il Frosinone staremmo dicendo tutte altre cose sì ma lui non può dire cioè esordire dicendo è difficile vincere le partite nel calcio ma tu stai giocando col Frosinone con tutto il rispetto io porto grande rispetto alla squadra ciocciara perché hanno fatto una grande partita oggi e avrebbero meritato di portare a casa il pareggio però lui che mi viene a dire che ogni partita è difficile ma tu stai giocando con le ultime quattro della side B cioè hai giocato col Verona l'Udinese l'Empoli adesso il Frosinone sono tutte squadre abbordabili tra l'altro tre di queste in casa e oggi ancora in casa stavi per pareggiarla perché all'ultimo secondo 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 me è stata una vittoria molto fortunosa molto fortunosa però posso poi aggiungere solo una cosa a questo ecco Allegri parla appunto prima c'era lo spareggio per lo Scudetto adesso la Champions e tutto quanto però il problema secondo me che bisogna analizzare è come è entrata oggi la Juventus Chiesa che cosa ha fatto Chiesa è stato veramente nullo ecco è stato penoso in campo è entrato poi Ildiz che qualcosa comunque bene o male ha dimostrato Vlaovic comunque questo si può dire strepitoso oggi perché è stato protagonista lui è McKennie però se poi analizziamo ecco sì McKennie ha evitato lui è McKennie due milioni sì però McKennie è stato bravo perché ha evitato il 3 a 2 di Caio Giorgio perché se lì invece se lo fosse stato l'avesse fatto andare fuori è sicuro poi Locatelli anche secondo me bruttissima bruttissima partita quindi voglio dire secondo me quello che dovrebbe analizzare sono i problemi all'interno della squadra non tanto è difficile vincere in partite così alle volte l'importante è portarsi a casa però non sono partite così sono 5 partite mi viene in mente cioè parliamo di 5 incontri è così queste partitacce giocate male ma che ho capito ma anche con Udinese l'hai giocata male anche con Lempoli l'hai giocata male infatti secondo me questa non so se è una mezza provocazione però si capirà se la Juve è uscita dal momento di crisi domenica Napoli perché quella di oggi sì ha vinto però io ho giocato male però parliamo anche lì di un Napoli cioè non stiamo parlando di Juve e Milan parliamo di Juve di Napoli però comunque rimane un big match sicuramente trasperta una squadra un pochettino più probante del Frosinone però come diceva Marcello il 100% daranno come diceva Marcello hai giocato con Udinese Empoli Frosinone Verona alla fine hai fatto 5 punti 5 partite ma è vergognoso ma è vergognoso cioè rimane un andamento piuttosto ma per la Juve io vi dico di più io vi dico di più già intorno ad Allegri non c'è tutto questo ottimismo che vogliono palesare cioè i dirigenti anche quando Giuntoli parla sembra che comunque sì ma beh ma davanti alle telecamere devono dimostrare compattezza di società e quindi è normale ma francamente da quello che ho percepito io non è che ci sia più tutta questa convinzione no? tant'è vero che oggi anche Allegri quando parla davanti alla Rai e gli chiedono del suo contratto lui dice beh io francamente in questo momento non voglio pensare io penso solo a quest'anno penso a quest'anno penso a quest'anno ti rimedesti in bianco lui dice no io ho curato ancora per un anno eccetera eccetera però io voglio dirvi se Rugani Rugani il gol di Rugani di oggi è un gol salvo Allegri perché se no domani mattina anzi stasera già partivano altri strani gli Allegri route salivano esponenzialmente no ma soprattutto ma guarda che sono già saliti sì 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 ma anche in società di sicuro è anche un gol che secondo me magari va un po' contro Allegri perché cioè nel senso lo favorisce ovviamente dal punto di vista del risultato però insomma Rugani dimostra di essere un giocatore credo che con Massimo tu sfondi una porta aperta sul discorso Rugani che nessuno come lui aveva sottolineato invece magari cos'era Juventus Sempoli tu dicevi anziché Alexandro esatto io sono d'accordo con questa visione io ho sempre detto che praticamente questo è un giocatore che da quando è entrato per sostituire Danilo che si era infortunato guarda caso è stato un giocatore che ha risposto sempre presente in modo sostanziale ed è stato diciamo così facente parte dell'organico degli undici titolari che hanno fatto sì che la Juventus facesse quel filotto di vittorie combinati con dei clean sheet importanti credo che Scesni sia arrivato a non prendere gol per tante partite e lui era il centrale titolare non dimentichiamoci che lui è stato il difensore diciamo così riserva dei tre dei tre big con Allegri cioè Bobonucci Barzani e Chiellini poi c'era anche Benatia ma poi veniva anche lui e io quando con l'Empoli non è stato schierato né all'inizio e nemmeno dopo perché io credo che Allegri abbia fatto due errori in quella partita non solo nel non schierarlo all'inizio ma nel non schierarlo nel momento in cui passa in vantaggio con Blaovic io avrei fatto in quel momento l'Allegri avrei inserito Rugani e avrei avrei tirato una riga lì davanti all'area di rigore come hanno fatto sempre le sue Juventus io credo che da quando non ha più fatto l'Allegri ha fatto una grandissima confusione mi dispiace dirlo ma ha ragione Marcello quando dice che con le ultime della classe non serviva una Juventus straordinaria sembiva secondo me una Juventus di ordinaria amministrazione e quando va in conferenza mi dispiace dirlo non dice mai che ha sbagliato qualcosa a lui dice sempre che ha sbagliato gli altri ha sbagliato i giocatori è vero che parla sempre nella prima persona plurale abbiamo Abbiano ma indica sempre i giocatori non indica mai una sua decisione sbagliata quindi questo secondo me lascia lascia intendere che pensa lui di avere probabilmente lo spogliatoio in mano ma a mio avviso c'era un allenatore che mi diceva sempre attenzione che quando gridi in campo di allenamento e si girano in due è arrivato il momento che te ne devi andare e io credo che se oggi alla continassa Allegri dovesse gridare io non so in quanti si girano sicuramente Chiesa non si gira secondo me e questo già la dice lunga sul fatto che a mio avviso sta perdendo piano piano i pezzi che aveva in mano come giocatori non dico dalla sua parte ma con la stima io ho fatto il giocatore e ti dico che quando tu hai stima di un allenatore lo segui anche nella sconfitta quando comincia a perdere stima verso questo allenatore per delle decisioni sbagliate per un atteggiamento sbagliato per un'intervista sbagliata comincia a non seguirlo più e a quel punto comincia a sentire che lui perde lo sfogliatoio vogliamo andare a ascoltare un altro passaggio allora di Allegri nominavi proprio Federico Chiesa di Federico Chiesa ha parlato protagonista di una partita molto negativa negativa molto molto negativa queste sono le parole che ha riservato al suo giocatore Allegri Federico oggi finché finché sta anche in campo ha fatto si è messo a disposizione per la squadra va bene sappiamo lo sa lui lo so io che comunque deve crescere di condizione deve migliorare la condizione perché ultimamente è stato diciamo ha saltato qualche allenamento diciamo non mi viene la parola va bene e quindi sappiamo che deve trovare una buona condizione un giocatore importante per la Juventus lo è stato lo è e lo sarà quindi deve rimanere sereno Federico deve lavorare continuare a lavorare e a migliorare quella che è la condizione Federico deve rimanere sereno perché ha qualità tecniche importanti anche oggi ha avuto una palla importante per far gol ne abbiamo parato una settimana deve migliorare la condizione oggi ha fatto 60 minuti comunque è andato in pressione si è messa a disposizione la squadra e di questo sono contento poi deve ritornare a fare cose importanti di cui lui è capace e quindi noi siamo qui che lo aspettiamo lo aiutiamo e sicuramente sarà un valore aggiunto per il finale di stagione Tiziano quando parla un allenatore dice si è messo a disposizione della squadra insomma è modo per dire che non ha inciso ecco è difficile trovare un allenatore che critica i propri giocatori semmai se lo fa semmai lo fa in separata sede degli spogliatoi pubblicamente creerebbe dei problemi non indifferenti no io scusate io voglio dire ancora una cosa Chiesa è vero ha giocato male però secondo me lui non lo sta migliorando perché io ho notato che da un po' di partite quando gioca a Chiesa lui si pesta i piedi con Kostic da quella zona lì lui continua a dire eh ma lui l'ha detto anche oggi ad Azzon ha detto eh ma lui crede di fare bene soltanto da esterno perché quello è il suo ruolo e quindi ha bisogno dello spazio per giocare tant'è vero che quando va in nazionale come lo usa Spalletti da esterno e lui si trova bene e fa delle buone prestazioni lui invece continua a intestardirsi che deve giocare la seconda punta e lo rovina e lo rovina e lo rovina e lo rovina scusa Marcello per cui sottolinea l'aspetto fisico eh io adesso non lo so per esempio prima quando tutti criticavano scusami scusami quando tutti criticavano lui in funzione cioè lui Allegri in funzione di Vlaovic nessuno pensava a Vlaovic che con la pubalgia che è un infortunio eh molto molto labile molto eh sottotraccia ma è un infortunio pazzesco eh che ti fa giocare sì ma ti fa giocare meno mato eh nessuno mai diceva eh però Vlaovic lo continuano a far giocare ma c'ha male perché la verità era quella eh quindi io da quel punto di vista poi io non so di chi è la colpa o comunque se è proprio la strada che Chiesa ha intrapreso perché tu lo sai meglio di me Chiesa gioca una partita poi ne sta fuori due questo è stato sono stati gli ultimi due tre mesi suoi quindi probabilmente fisicamente è andato giù di chiudere